Sarà il caso, sarà la curiosità, sarà a volte la circostanza, però la stragrande maggioranza delle stragi di mafia vengono identificate con i toponimi o comunque con le indicazioni geografiche di dove si svolgono. Pensiamo a Via D'Amelio, sapete tutti che cos'è la strage di Via D'Amelio. È la strage del 19 di luglio del 1992 in cui perirono Paolo Borsellino, il magistrato Borsellino, e gli uomini della sua scorta. O la strage di Capaccio, risalente a un paio di mesi prima, la morte sull'autostrada del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie e di alcuni agenti della scorta. Oppure ancora, la strage di Ciaculli, questa un po' più vecchia, magari pochi se ne ricordano, ma è la morte violenta di tanti carabinieri che stavano indagando sulla prima guerra di mafia, quella che vedeva opposti i vecchi Capiclan e Michele Cavataio, e che porrà proprio fine per quell'impatto enorme di violenza a quel primo conflitto interno a Cosa Nostra. Ce ne sono tante, di stragi di mafia, prendono tutte il nome da qualche strada, da qualche piazza, da qualche circombalazione. Ecco la circombalazione, la circombalazione di Palermo. Parliamo di questa arteria di traffico, parliamo soprattutto di un qualcosa che avviene un giorno d'estate, inizio d'estate, siamo nel 16 giugno del 1982. Palermo è una città, se vogliamo citare il film di Gianni Stecchino, molto trafficata, ma non è il traffico veicolare il vero problema. Se mai ci sono altri traffici, ci sono i traffici di droga, che arrivano dalla vicina Cinesi, dove l'aeroporto di Punta Raisi, controllato dal Campo Adalamenti, spedisce partite di eroina in America. È la cosiddetta Pizza Connection. Poi ci sono traffici anche di armi, a volte traffici di sostanze pericolose. Palermo è una città trafficata, ed è una città, sì, anche con un robusto traffico di veicoli. Quel giorno, lungo la circovallazione, c'è una vettura, una Mercedes, piuttosto grande, che sta attraversando la circovallazione in direzione dello svincolo di Mazzara del Vallo. A bordo ci sono cinque persone. Una, al volante, è in borghese, è un autista civile, si chiama Giuseppe Di Lavoro. È l'autista, autista di una ditta proprietaria del veicolo, che in appalto gestisce il trasporto dei detenuti da un carcere all'altro dell'isola siciliana. Giuseppe Di Lavoro, tra l'altro, quel giorno non doveva neanche essere al lavoro, doveva essere a casa. Aveva deciso, all'ultimo, di sostituire il padre, che non si sentiva troppo bene quel giorno. Aveva preso il suo posto al volante. Con lui ci sono tre carabinieri. Il caposcorta, Silvano Franzolina, che siede davanti, a fianco al guidatore. Dietro ci sono Salvatore Raiti e Luigi Di Barca. E in mezzo a loro, con le manette ai polsi, c'è un boss recluso, che però ha già dato i primi segni di voler collaborare con la giustizia. Quell'uomo, ritenuto molto pericoloso, non è pericoloso solo per lo Stato, è pericoloso prima di tutto per Cosa Nostra. Si chiama Alfio Ferlito. È l'ex braccio destro del clan Calderone, a Catania. Ed è il nuovo bersaglio di Cosa Nostra. Siamo dunque su questa arteria di traffico. Sono le 10 di mattina circa di quel 16 giugno del 1982. L'auto proveniente dal carcere di Enna è diretta alla casa circondariale di Trapani. È la nuova destinazione di Ferlito che è stato spostato. Anche perché Ferlito ha cominciato a parlare. Ferlito ha deciso di collaborare. Ha deciso di collaborare perché non gli piace quello che ha visto di recente. Ferlito ha già impugnato le armi contro altri mafiosi perché ha una vendetta da compiere. Lui era l'uomo di fiducia del clan Calderone. Non di Antonino, il fratello minore, ma del capo Cosca, Giuseppe Calderone. Era stato proprio Giuseppe Calderone a governare per lungo tempo gli affari a Catania. Una città babba, secondo la vulgata siciliana. Una città stupida, nel senso che non ha nessun interesse per Cosa Nostra. Ma invece la vulgata si sbaglia. A Catania la mafia c'è. È ben presente. Ed è presente attraverso due clan. Uno appunto è quello dei Calderone, che per lungo tempo controllano i vari traffici. L'altro, che è emergente, è il clan che fa capo a un uomo chiamato Benedetto. Ma in realtà tutti lo chiamano Nitto. Nitto Santa Paola. È Nitto Santa Paola che ha tradito i Calderone e si è alleato con i Corleonesi. Quella fazione sempre più militarizzata della mafia che ha dichiarato guerra ai vecchi boss. A Stefano Bontate, il principe di Villagrazia, il primo a cadere sotto i colpi dei Corleonesi. A Salvatore Inzerillo, suo braccio destro, ucciso anche lui. E a tanti altri. Una vera e propria mattanza. Quando Giuseppe Calderone viene ucciso, Alfio Ferlito non ci sta. Mentre il fratello di Giuseppe Calderone, Antonino, scappa, cerca rifugio altrove, va in Francia e li verrà arrestato. Alfio Ferlito vuole vendicare il suo vecchio socio, il suo vecchio capo. Anche perché in quel periodo c'è qualcosa di strano che si sta muovendo nel sottobosco mafioso siciliano. Ci sono troppi movimenti strani e non ci sono solo i Corleonesi che si sono armati fino ai denti per eliminare tutti, ma proprio tutti i loro rivali. No, c'è Michele Sindona che in quel periodo, a fine anni 70, sta vagando per la Sicilia in incognito dopo aver finto il proprio rapimento per ritrovare alleati, documenti e soldi. Quello che gli serve per tornare alla ribalta, per cancellare tutti i suoi guai giudiziari e non solo. C'è la P2, sì, c'è anche la P2 nella zona, perché proprio indagando sul finto sequestro Sindona, i magistrati di Milano scopriranno che Sindona nell'isola è stato aiutato da alcuni personaggi che fanno proprio capo alla P2, a Licio Gelli. E poi ci sono altri interessi, interessi piuttosto sporchi. Il sacco di Palermo avvenuto anni prima, la distruzione delle palazzine Liberty per far posto ai grandi casermoni di cemento. Un sacco di Palermo il cui conto viene pagato da un innocente, da Pier Santi Mattarella, presidente della regione, fratello tra l'altro dell'attuale capo di Stato, che aveva deciso di rompere il clima mafioso di omertà all'interno della politica locale e che aveva pagato quella vita, ucciso da sconosciuti il giorno dell'Epifania, mentre era in auto con la famiglia, pronto per andare a messa. Troppe cose strane. C'è anche il caso di un altro boss, un boss un po' particolare, un boss che al contempo è capo mafia di una città piuttosto popolosa, Riesi, ma anche confidente dei Carabinieri. D'altronde questi fenomeni, i fenomeni dei mafiosi che collaborano a volte così a giorni alterni o a singhiozzo, non sono esattamente una novità. Ogni boss tira acqua al suo mulino. Ma quando Giuseppe Di Cristina, il boss di Riesi, viene freddato nel suo territorio, Alfio Ferlito capisce che c'è qualcosa che non va, perché non è possibile che sia stata decretata una condanna a morte di un capo Cosca solo perché aveva spifferato due cose ai Carabinieri. Alfio Ferlito è determinato, vuole cambiare le cose. Prima lo fa armi in pugno, poi quando viene arrestato, dopo un po' matura la decisione di collaborare. Non è un infame, lo dice subito, io non sono un infame. Io sono ligio al mio codice e voglio lottare contro chi su quel codice ci ha sputtato sopra. Al punto da uccidere persone che fino al giorno prima erano soci e il giorno dopo erano diventati carne da macello. Alfio Ferlito è disposto a lavorare con la giustizia. E con chi? Con il magistrato Rocco Chinnici, uno dei maestri di Giovanni Falcone, che in quel periodo guida l'ufficio di istruzione al Tribunale di Palermo. E con un altro personaggio arrivato da poco dal continente, personaggio che arriva in Sicilia per la terza volta nella sua vita. Il nuovo prefetto con presunti pieni poteri, che in realtà non avrà mai. L'ex generale dei Carabinieri, Carlo Alberto della Chiesa. È con loro due che Alfio Ferlito vuole parlare. È con loro che vuole vuotare il sacco, che vuole aprire le casse della memoria e spiegare i tanti meccanismi perversi dietro le nuove logiche di Cosa Nostra. Il problema è che Alfio Ferlito non riuscirà mai a parlare col generale della Chiesa. Questo perché, torniamo a quella circomalazione, torniamo alle ore 10 del 16 giugno del 1982, torniamo a quella Mercedes che sta proseguendo lungo la strada e sta per imboccare lo svincolo, per Mazzara del Ballo. Quella Mercedes, prima dello svincolo, viene affiancata da due veicoli. Uno è una BMW, una BMW 520. L'altra è un Alfetta 2000. A bordo di quei due veicoli c'è un commando di killer mafiosi. L'ordine che è stato dato loro è quello di uccidere tutti gli occupanti a bordo della Mercedes, a cominciare da Alfio Ferlito. Ferlito non dovrà mai raggiungere Trapani. Questo perché sanno benissimo i boss che a Trapani Ferlito diventerebbe intoccabile, irraggiungibile e parlerebbe con le autorità. Non lo deve fare. Non ci deve arrivare. Quelle due auto, la BMW e l'Alfetta, affiancano a tutta velocità la Mercedes prima dello svincolo. Dai finestrini emergono dei Kalashnikov, gli AK-47, i fucili mitragliatori, che sparano all'impazzata tutta la fiancata sinistra della Mercedes. Il primo a essere colpito è proprio Giuseppe Di Lavoro, il giovane autista, l'uomo che ha preso il posto di suo padre alla guida della vettura quel giorno. Giuseppe Di Lavoro muore sul colpo. I proiettili lo passano da parte a parte. Si accascia sul volante a punto tale che la vettura impazzisce, comincia a zigzagare senza che Silvano Franzolina al suo fianco riesca a far nulla per evitare l'impatto fortissimo con il guard drive. E quando la vettura si ferma di colpo, dopo oltretutto aver invaso la corsia opposta e aver incocciato contro un'altra vettura ferendo l'occupanza di quella vettura, una Fiat 500, una donna di nome Nunzia Pecorella, il commando si ferma, ferma le vetture, circonda la Mercedes e parte un'altra pioggia di fuoco. Solo Franzolina riesce a uscire con la beretta d'ordinanza in pugno, cerca di difendersi, non ce la fa, è accerchiato, viene crivellato di pallottole. I suoi colleghi sul sedile posteriore fanno una bruttissima fine, sono intrappolati tra le lamiere, non possono muoversi, non possono uscire e vengono trafitti dai colpi, assieme ad Alfio Ferlito. L'intera azione del commando non dura più di cinque minuti, il tempo di affiancare la Mercedes, sparare la prima raffica, arrestarsi, uccidere tutti gli occupanti e ripartire. È la strage della circonvallazione, è uno degli episodi più bui del periodo dei primi anni Ottanta, della lotta tra lo Stato e Cosa Nostra. Sul teatro della strage, appena un'ora dopo, arriva lui, Carlo Alberto della Chiesa, è in borghese, è il prefetto, non ha più gli alamari sulla pelle, quegli alamari cui teneva tanto, ma ha la vista di quei tre ragazzi in divisa, di quei tre carabinieri che facevano solo il loro dovere, del caposcorta Franzolina e degli altri due, raitieri e di barca. Il vecchio generale si toglie per un attimo gli occhiali a doppoponte con i vetri fumetti, prende un fazzoletto dalla tasca e si asciuga gli occhi, si sente male in generale. Vedere quei ragazzi in divisa lì, morti, e morti in quel modo, gli fa male al cuore. Qualche settimana dopo il generale vorrà parlare con Enzo Biagi, un grande giornalista, spiegandogli i perché del suo ritorno a Palermo, e soprattutto del dolore di vedere una Palermo così, ridotta in quello Stato, con lo Stato, scusate il gioco di parole, che sembrava aver abbandonato i siciliani onesti. Anche il generale, come ben sappiamo, non durerà molto. Per molti mafiosi, per molti corleonesi, era molto più pericoloso lui, lì con la sua figura, anche senza poteri speciali, che non da generale dei carabinieri con tutte le forze a disposizione. Va abbattuto pure lui, perché è una mattanza continua, ed è una mattanza che riguarderà anche Rocco Chinnici, ucciso sotto casa da un'autobomba, il commissario Montana, il commissario Cassarà. Infine, l'abbiamo già detto, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Una lunga stagione di guerra della mafia contro lo Stato, contro uomini dello Stato, che siano in piena vista, come dalla Chiesa, Chinnici, Falcone, Borsellini, o che siano semplicemente degli agenti che fanno il loro lavoro, come il povero Calogero Zucchetto, tutti nemici di Cosa Nostra, come Alfio Ferlito, che non doveva parlare. Ma quelle parole che Ferlito non riuscirà mai a dire, le dirà parecchi anni dopo Antonino Calderone, che dopo tante reticenze e anche un po' di paura, si deciderà a vuotare il sacco proprio con Giovanni Falcone e a parlare, parlare di suo fratello, che non c'era più, e verso cui nutriva ancora sincero affetto, di Ferlito, di Nitto Santa Paola, dei Corleonesi, dei Cugini Salvo, e di tutto quel sistema di potere ibrido, politico e mafioso, su cui si reggeva la Sicilia in quegli anni. Un potere che richiederà tempo per essere smantellato, tempo, pazienza, anche sangue. Un sistema malato, un sistema di potere che strozza le speranze degli onesti e che premia invece i malavitosi. Alfio Ferlito di questo voleva parlare, ma gli hanno cucito la bocca. Antonino Calderone è riuscito invece a parlare. E anche grazie a lui e altri pentiti di mafia, pensiamo anche a Grande Pentito, Tommaso Buscetta, Totuccio Contorno o a Mannoia, oggi noi sappiamo qualcosa di più, perché anche se la mafia può far valere i suoi maggiori poteri, quello economico, quello militare e quello della paura, non potrà mai sconfingere il potere della verità. Grazie a tutti.